Si deve fare un po' più carino. Poi al mattino, figa, se andiamo sul frigone, ci potessi sentire, tre curve erano sparite. E noi stavamo tra di noi, adesso facciamo vedere a questi, massacriamo. E loro vanno come dei treni. Senti come delle caprette noi. C'hanno massacrato. Sì, da quando la troviamo non lo troveranno. No, mai, forse di qua che lo soveranno. Ma al cottadino non vi... No, gli abbiamo chiesto. Gli abbiamo chiesto per rifarmi, poi essendo vicino a casa, prima di aprirlo, gli abbiamo chiesto. Stiamo? È una fortuna anche... Stiamo? Sì, sì. Sto filmando, no, sto filmando, andate, andate. Sì, sono là. Visto che la compagnia è buona, bisogna lasciare qualche ricordo. Questa è carina. Questo è un canale YouTube. Hai votato le spondi e hai sfruttato il canale? Hai visto? Lui il guida lo vuol fare. Lo faremo io. Sì. Ma hai visto qui? Quale è come se gli nascono, è un'acqua.